salve a tutti signori e bentornati sul mio canale oggi torniamo con un altro episodio di avido legge cose riprendiamo quello che era una lettura che abbiamo fatto tanto tempo fa ormai a dicembre avevo lasciato in sospeso la vendetta degli unicorni di mario attilieni quindi il secondo libro dell'impero delle clessidre non vi sto a dire nulla di che vi lascio ascoltare il pezzo che è anche abbastanza lungo quindi poi commenteremo dopo ma comunque mi aspetto come al solito i vostri commenti a caldo dopo il dopo l'ascolto grazie steiner inaugurò il torneo tra la folla esultante dell'arena di barde rosunda sorteggiò gli scontri tra i vari cavalieri la neve continuava a dar tregua in quell'ultimo giorno dell'anno il cielo rimaneva pulito e di un colore azzurro freddo tendente al grigio essendo dante un ambasciatore straniero lui e achille furono fatti sedere accanto al lord elmic bourbois arconte alla mappa così come prevedeva il protocollo si trattava di una postazione ottima da dove poter vedere bene i vari combattimenti che sarebbero susseguiti axirion toccò in sorte nel primo incontro yomun suono rosso figlio del lord di riva dell'occhi e non ebbe problemi a sbragliarlo la regina sorteggiò pilas contro kilder gloster fratello maggiore di drigo e lorand contro reddo di luigiae castagneto nipote di lord di castagneto di luigiae un ramo cadetto dei signori dell'autunno come axirion anche gli altri due cavalieri del corpo dell'imperatore ebbero agilmente ragione dei loro avversari per la gioia di achille che poté così vedere qualificarsi tutti e tre i suoi amici al turno successivo per lui che era abituato al massimo alle sfide a calcetto a tennis si trattò di un'esperienza davvero particolare di quella parte di torneo l'aspetto più sorprendente fu la difficoltà del tutto in attesa che ser fulves di luigiai incontrò per sbarazzarsi del mediocre self erics miller uno dei figli del lord di castagneto del mulino tutti infatti erano all'oscuro dell'impegnativa maratona notturna del figlio del principe rosso tuo nipote ha sottovalutato il tuo avversario commentò con superiorità steiner rivolto all'arcilogos rocco che gli sedeva accanto così sembrerebbe il sire ammise l'eponimo mai sottovalutare i propri avversari comunque diciamo anche che ser ferex di recente è molto migliorato nel combattere merito mio arcilogos l'ho portato in guerra contro feng l'ho spronato a fare onore al motto della sua famiglia rise il re bianche mura chi va al mulino si insanguina rocco citò a memoria il motto di casa miller tu per chi parteggi mia cara il re aveva deciso nel frattempo di degnare di attenzione la moglie seduta gli accanto io io non saprei forse per nessuno non è che conosca bene tutti questi cavalieri ti fa per ser fulves allora alla fine lui che mi ha aiutato a spugnare feng e ti ha pure portata all'altare al posto del tuo povero padre rocco ascoltando la conversazione scosse la testa impercettibilmente che bisogno aveva un uomo come steiner giovane forte intelligente e il re di umiliare sempre in quel modo quella povera ragazza perché la tormentava così l'ha voluta sposare quindi gli piace ragionava altrimenti non gli sarebbe forse convenuto ucciderla e via o semplicemente trattarla come giusto che si trattino i figli dei traditori rocco non riusciva a trovare un senso a quel comportamento a quel sadismo tirannico e gratuito cosa lo scatenava che il re avesse qualche rotella fuori posto oppure c'era sotto qualcos'altro achille tifava per l'orand in particolare anche se si rendeva conto che era xirion quello con più possibilità di ottenere la vittoria finale il cavaliere di ponte del logos ebbe rapidamente ragione anche del suo secondo avversario un cavaliere rotilio anche lui imparentato con i dilugiai mentre pilas ebbe da soffrire prima di sconfiggere marl foscar figlio di lord foscar signore di hyams e arconte alla spada che presenziava ovviamente anche egli al torneo per xirion oltre a essere contento per il suo compagno fu un vero sollievo che ser marl fosse eliminato dal torneo temeva infatti il fratello di sua cognata magnolia più che lo stesso ser fulves paradossalmente e forse era facile capirne il motivo ma non scorre sangue protestò steiner indignato ancora rivolto a rocco forse è meglio così maestà rispose l'arci logos il sangue è bene che scorra nelle battaglie quelle vere è bene conservarci i nostri cavalieri migliori visti i tempi che corrono visti i venti di guerra anche fulves raggiunse la semifinale ma si vedeva che non era in forma mentre laurend fu sconfitto da storris blue knight che impressionò tutti per il suo stile il suo modo di combattere non lo conosco quello disse il re indicando il giovane con lo scudo raffigurante e la civetta gialla su sfondo blu notte è il figlio di lord luwen occhio per valstellata si re ha appena 18 anni ho capito la notte è dolce le nostre lame no rispose steiner citando il moto di casa blue knight il giovane astores avrebbe incontrato in semifinale fulves mentre l'altra semifinale sarebbe stata un derby imperiale tra xyrios e pilas che sarebbe stato vinto dal primo ai due amici sembrò strano trovarsi contro in duello anche se si trattava solo di una manifestazione sportiva pur essendo già nubiano astores blue knight proprio come xyrion combatteva secondo lo stile vasaziano una classe elegante ed efficace ma non per questo meno potente assomigliava al cavaliere di ponte del logos anche fisicamente infatti era alto e longilineo l'elmo nascondeva i lineamenti delicati e i capelli neri crespi laurent giunse in tribuna giusto in tempo per assistere allo scontro tra stores blue knight e fulves di lugiai achille gli fece posto accanto a sé e si congratulò per come aveva combattuto il cavaliere esiano aveva la faccia rossa e sudata i capelli erano ancora bagnati e appiccicati col sudore alla fronte aveva un livido violaceo sulla guancia destra ed era evidentemente seccato di essere stato eliminato nel frattempo nell'arena il combattimento era iniziato e blue knight si era gettato subito senza paura contro il gigantesco ser fulves la forza del primo colpo di spada di astores ammaccò pesantemente la foglia rossa dei dilugiai raffigurata sullo scudo del rotilio al secondo fendente dell'avversario fulves ormai partito sulla difensiva per scansarlo perse l'equilibrio e ruzzolò a terra che cosa succede sobbalzò col pensiero rocco considerando quanto suo nipote non fosse per niente in forma quel giorno lo so io cosa succede a tuo nipote gli si rivolse steiner come se gli avesse letto nel pensiero rocco rimase per un attimo interdetto avendo davvero avuto l'impressione che il re potesse sbirciare nella sua mente l'occhio dell'arcilogos cadde sull'anello di ebano infilato al dito del re e mi rimase con sospetto del resto al di là dei discorsi non era molto chiaro a nessuno quali poteri avessero quegli anelli un tempo appartenuti a oriam kelis qualcuno azzardava addirittura che non ne avessero affatto ma chi invece riteneva fossero magici non era poi in grado di specificarne di preciso i poteri ogni anello ai medesimi poteri oppure ogni materiale sprigiona una magia diversa oppure ancora i poteri cambiano da soggetto a soggetto e infine li può utilizzare chiunque oppure soltanto alcune persone dotate di un qualcosa di specifico tutta colpa di quella baldracca mio caro eponimo sentenziò compiaciuto steiner come dite vostra maestà si riprese rocco dicevo che tuo nipote mio caro arcilogos deve aver trascorso la notte con qualche puttana di prima categoria scandì il re con scherno e rinnovato compiacimento ho sempre messo in guardia mio nipote dal frequentare i bordelli il creatore nel secondo libro ide a dice lascialo stare il creatore eponimo il suo mestieraccio forse persino peggiore del mio e forse addirittura peggiore di quello delle puttane ma comunque qui non si tratta di bordelli no 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 stanotte tuo nipote non è stato con una baldracca di professione è stato di sicuro con una nobiltonna quelle di buona famiglia sono le più represse sono più puttane di quelle che lo fanno di mestiere la vocazione supera sempre la professione mio caro arcilogos tu sei un membro dell'ordine per cui dovresti saperlo rocco di lugiai si limitò a tentare di celare l'imbarazzo sì sì il re continuava a ragionarci divertito mi verrebbe da dire proprio un gran bel troione a giudicare da come lo ha ridotto steiner rincarava la dose esaltandosi e balzando in piedi di fronte al mastodontico cavaliere rotilio che nel frattempo era finito a terra per la seconda volta guardalo è sfatto ha le gambe molli una vera e propria cagna in calore per come lo ha ridotto azzarderei a dire che è sposata e non vorrei essere nei panni del marito rocco fece un sorriso di circostanza cercando di glissare il più possibile vedi mia cara il re si era rivolto nel frattempo alla regina guarda come voi donne siete in grado di ridurre un uomo anche il più forte guerriero e rideva divertito intanto fulves si era rialzato e schiumando di rabbia si lanciò all'attacco a storris blue knight si parò con lo scudo ma la forza del colpo del rotilio fu tale che il cavaliere di valstellata si ritrovò spostato indietro di due metri solcando con gli stivali il terreno un fendente di impressionante potenza così violento che il clangore rimbombò assurdo nel cielo bianco sopra l'arena di bard a storris in un primo momento pensò di essere morto il colpo era stato di un tale vigore che il ragazzo diede per scontato che la civetta raffigurata sul suo scudo fosse stata polverizzata rimase in attesa che la spada di fulves dividesse in due anche lui e chiuse gli occhi soltanto quando li riaprì si rese conto con sollievo di essere ancora vivo colludito scorse lo stupore del pubblico sugli spalti che stava considerando la potenza spaventosa del colpo inferto il giovane blue knight si riprese il fendente era stato tremendo disumano ma nella fuga rabbiosa il figlio del principe anto chan si era mosso scomposto rendendosi facilmente vulnerabile a storris rispose con un colpo astuto fulves si protese con la spada tutto in pochi secondi ma era una difesa improvvisata il contrattacco lo disarmò un silenzio stupito e teso pervase allora gli spettatori a storris era molto veloce e colpì di nuovo fulves sbigottito si ritrovò di colpo anche senza scudo volato pure esso di lato e comunque non gli era valso evitargli una ferita un taglio su un fianco il cavaliere dell'autunno con orrore si guardò sanguinare ma non era in grado di percepire quanto la ferita potesse essere profonda la lama di blue knight era tutto tranne che dolce come correttamente avvertiva il motto della sua nobile casa in compenso si rese conto di essere nudo cioè completamente disarmato di fronte all'avversario che stava caricando per l'attacco finale fulves si concentrò un cavaliere del suo livello sapeva difendersi anche disarmato avrebbe bloccato la spada dell'avversario a mani nude stando attento alla lama astorris era però un ragazzo umile e intelligente quanto bastava per sapere che ser fulves di luigi a mani nude rimaneva comunque più pericoloso rispetto a chiunque altro con spada e scudo per questo motivo con agilità si mosse di lato rispetto al rotilio e lo atterrò con un inatteso colpo di scudo sul petto tale da farlo indietreggiare quanto bastava per sgambettarlo fulves si ritrovò a mordere nuovamente la polvere ma questa volta blue knight poteva farglisi addosso e lo tenne sotto scacco con la minaccia della spada era finita al gigante dai capelli rossi il favorito del torneo non restava che la resa e l'eliminazione in semifinale a opera di un diciottenne semisconosciuto uscì dall'arena libido di rabbia impolverato e grondante sangue sul fianco sinistro non era riuscito a vincere nemmeno quell'anno nonostante l'assenza di steiner bianchemura ci sono tornati oggi abbiamo a che fare con un po di azione anche l'ultimo capitolo che avevamo letto se non sbaglio era abbastanza carico di azione perché c'erano le amazoni che attaccavano attaccavano la città ma in questo caso c'è un po più di azione nel corpo a corpo un torneo quindi uno contro uno andiamo a conoscere re steiner andiamo a conoscere fulves quindi due personaggi che sembrano molto importanti ai fini della storia di quello che vi ricordo è stato chiamato il trono di spada italiano quindi lascio a voi i commenti lascio a voi le opinioni se volete dirmi cosa pensate della lettura dello scritto e se avete per caso comprato il libro sappiatemi dire in ogni caso vi ricordo di iscrivervi al canale mettere mi piace commentare sostenermi come potete quando volete quanto volete e niente ci vediamo mercoledì prossimo per un'altra puntata di avido legge cose con un altro capitolo della vendetta degli unicorni poi credo che porterò anche altri libri di altri autori intanto vi ringrazio e vi ricordo anche di seguirmi sui social su instagram e tiktok ciao a tutti signori un abbraccio a tutti signori un abbraccio